Come tutte le storie anche questa storia ha dei personaggi Doriana mia madre Massimiliano mio padre I cani che anche se si vedono solo qui ne fanno parte E poi c'è Lavinia mia sorella Al momento ancora solo un'ombra scura accanto alla madre E questa sono io È il 24 novembre e ci siamo da poco incontrati all'aeroporto di Parigi Per andare a Hong Kong E ognuno è arrivato da un posto diverso Fortuna che siamo solo in quattro Stiamo andando a Shenzen dove Massimiliano e Doriana hanno costruito il nuovo aeroporto Che tra tre giorni aprirà il pubblico Che vedono i chiuderemi e poi siamo tornati ognuno ha la propria vita Massimiliano e Doriano alla loro perché è una ed è insieme lei vieni a Milano e io a Roma e ho capito che alla fine quello che ho visto in quei tre giorni è il risultato di una grande storia d'amore